Noi ci trovavamo insieme, vecchi, gloriosi personaggi del vecchio sistema italiano, Vittorio Bolle, Orlando, Enrico De Ricola, il mio maestro, Schforz ed altri, i quali in sostanza si trovavano quasi in difficoltà perché agivano con una mentalità e con un criterio del tutto superato. E poi c'era la squadra di noi giovani, più o meno, la quale lavorava in base ad una concezione nuova dello Stato, una concezione che portava a stabilire la necessità di questo dichiarato compromesso di incontro tra le opposte esigenze. Tre erano in fondo le grandi linee che stavano a noi. C'era una storia di pensiero comunista, anche accompagnato da una storia di attività politica dei comunisti che, si è detto, senza resicenza avevano combattuto il fascismo a viso aperto, sopportando anche grandi difficoltà e grandi dolori. Poi avevamo il filone della cultura cattolica che da noi cominciava, come ho già detto, con la fucce, ma che si riportava a quella celebre enciclica da Renum Novarum di Renone XIII, quasi all'inizio di questo secolo, che è stata la stella che ha illuminato il pensiero sociale della democrazia cristiana. E poi c'era un filone importante storico della tradizione socialista, sia pure delle difficoltà strane. Tra le due aspetti, un socialismo eccessivo, estrema, un socialismo moderato, che diremmo democrazia sociale. Anche questo con Barber. E poi c'erano i filoni diretti, il filone liberale, che raccoglieva insieme cattolici, democratici, socialisti democratici, tutta una parte, diciamo, di destra del problema sociale, che pure aveva una sua attività, una sua rappresentanza. E gli stessi era proprio l'istricarsi in mezzo a questo.